segnatevi questa data 27 luglio 2018 infatti la luna apparirà di colore rosso per via della eclissi totale più lunga di tutto il secolo a roma il firmamento mostrerà qualcosa di straordinario di unico nel suo genere una eclissi totale di luna chiamata con il nome gergale di luna rossa si tratterà dell'eclissi di luna più lunga del secolo visibile per ben 103 minuti di tempo complessivo la luna si troverà nel punto delle liste più distante dalla terra si tratterà di una piccola luna di una mini luna l'opposizione di marte renderà visibile anche il pianeta rosso che dal 2003 non si vedeva un fenomeno davvero di straordinarietà totale suggestivo sarà possibile ammirare dalla capitale in diversi punti di osservazione questa meravigliosa luna rossa che non può e non deve passare inosservata 27 luglio 2018 occhi puntati al cielo ovviamente in notturna per vedere la luna rossa grazie un chiaro salutone a prossimo video da narratore italiano